Ciao a tutti, bentornati. Sono tornata manco da un sacco e ne sono consapevole, di questo mi dispiace tanto. Sto cercando di capire come organizzare e quando registrare i video perché mi risulta ancora molto difficile. Vi ho già detto che avendo cambiato lavoro, avendo degli orari completamente differenti rispetto al precedente lavoro, pur avendo un po' più di tempo libero nel pomeriggio, faccio fatica proprio ad organizzare questa cosa. Ma ovviamente non ho alcuna intenzione di abbandonarvi. Appena posso, appena un modo, io ritorno sempre. Non vi dimenticate mai di me. Sono qui oggi perché so che è un po' prematuro, ma io vedo che ho anche visto altre ragazze che hanno fatto questa tipologia di video e sto parlando dei calendari dell'avvento. Per molti potrebbe sembrare anche un po' prematuro, però sapendo anche i tempi e anche le disponibilità sui siti mi sembra anche giusto mostrarvi quello che ho acquistato io. Anche perché su molti siti molti calendari sono sold out. Siamo a quasi fine ottobre, eppure sì è così. Motivo per cui ho deciso di oggi mostrarvi il contenuto del calendario di... di Look Fantastic. Anche quest'anno mi sono accaparrata il calendario di Look Fantastic. L'anno scorso infatti mi era piaciuto molto e anche quest'anno gli ho voluto dare un'altra possibilità. Questo calendario l'ho acquistato esattamente ad agosto. Ero al mare, mi è arrivata la mail e ho fatto il preordine. Vabbè. Andiamo, veniamo a lui. Come sempre in realtà il concetto del calendario è lo stesso. Quest'anno cambia semplicemente il colore. L'anno scorso era bianco e nero, quest'anno di questo color viola, vinaccia, molto bello. La scatola si presenta sempre in questo modo, quindi si apre e qui troviamo tutte le 25 caselle come l'anno scorso. Praticamente è uguale. Io partirei subito senza perderci in troppe chiacchiere. Andrei subito con la casella numero 1. Allora, c'è anche della carta, il che mi piace perché significa che sono anche imballate un pochettino piuttosto che messe nelle caselline così, magari con il rischio di sbattere e di rovinarsi. Nel giorno numero 1, nella casella 1, troviamo una crema notte. Questa qui della Kate Somerville che sinceramente non conosco, non è un brand che io conosco, però io sapete. Amante della skin care, apprezzo tutto ciò che riguarda crema e cremine. Passiamo alla casella 2. Ah, eccolo. Io avevo già visto un po' di prodottini da altri video, però non tutti. Questo qui era uno di quelli che avevo visto. È un prodotto di Wow. Wow è un brand che potete reperire su Look Fantastic. È un brand per capelli. Pare sia anche molto buono, di altissima qualità ed è uno spray per capelli. Super Natural Spray, Dream Coat. Dovrebbe essere uno spray a fine, credo, che va applicato a fine piega o probabilmente anche a capelli umidi. Molto interessante perché è uno di quei brand che io volevo provare, ho sempre adocchiato, ma che non ho mai avuto modo di provare. Andiamo alla 3. La casella 3 invece contiene un prodotto di Illamasqua. Allora, questo qui è forse un primer, perché Hydra Setting Spray è uno spray fissante di Illamasqua, tra l'altro è da 30 ml. Io di solito non li acquisto molto questi prodotti, però mi fa sempre piacere trovarli nei calendari perché poi li utilizzo durante tutto l'anno. Infatti ne ho ancora alcuni del calendario dello scorso anno, quindi mi va bene. Casella 4. Qui invece è un prodotto di Rodial. Sarebbe un gel detergente. Allora, Rodial è un brand che a me piace tantissimo. Ho provato diversi prodotti e devo dire che lo apprezzo tanto. Questo qui dovrebbe essere un gel detergente da 15 ml. È un po' piccolino, si potevano sforzare anche un po' di più con le taglie dei prodotti. Allora, casella 5. Casella 5 invece è un altro tubettino, Aveda. Aveda è un altro brand che a me piace tanto. È un prodotto per capelli ed è un leave-in, quindi una crema che può essere applicata sia a capelli bagnati, ma anche a fine trattamento, quindi a fine piega. Aveda mi piace tanto. Dovrebbe essere una crema rinforzante riparatrice per capelli. Bene, peccato per il formato troppo piccolo secondo me. Parliamo di 25 ml. Casella 6 invece. Qui abbiamo un prodotto della Delila, che è un brand anche lui che non conosco. Lip line, colorazione buff, quindi dovrebbe essere una matita labbra. In effetti è una matita labbra. Il colore però mi piace tantissimo. È il mio rosa nude per eccellenza. Per intenderci, se avete presente Merdy Mac, è praticamente quel tono di colore. È molto bella, molto interessante. Di questa sono molto soddisfatta. Devo dire apprezzata, molto apprezzata. Passiamo alla casella 7. ovviamente. Ha ha ha! Omorovitska, un brand che io apprezzo da morire. Devo dire uno dei brand diciamo high cost, presenti su Look Fantastic. Lei è una... che cosa sarebbe? Ah, un gommage lisciante per il viso, quindi è una sorta di scrub. Interessante anche questo prodotto. Poi, Omorovitska è un brand di Budapest, dove all'interno i prodotti hanno anche acqua termale, oppure fanghi della stessa, delle stesse terme. Quindi sono prodotti davvero validi. Io, con tutti i prodotti che ho provato fino ad ora, ho provato delle creme, delle maschere, mi sono piaciute tantissimo. Quindi sono molto contenta. Casella, invece, numero 8. Anche qui vedo un tubettino. Vedo molta skincare. Questo l'apprezzo. Philip Kingsley. Allora, questo invece è un trattamento, credo, per capelli. Multitask for all... sì. È un prodotto 5 in 1. Da capire, però, effettivamente che cosa sia. Non mi sembra né uno shampoo e né un... è un prodotto per lo styling. Quindi un prodotto, anche lui, da applicare a fine trattamento, subito dopo lo shampoo. Siamo a già tre prodotti per capelli. Io direi che possa anche bastare. Non mi sembra una maschera, ecco. Poi magari me la rileggo meglio, però mi sembra più un prodotto per lo styling. 9. Casella 9. Qui vedo un altro tipologico... un'altra... Ah! Qui invece abbiamo Nars. In effetti troviamo un imballaggio un po' diverso dagli altri. Nars. Oddio. E voi sapete il mio amore per Nars. Lo conoscete. Soprattutto per i rossetti Pense Orgasm. Vabbè. Soprattutto per i rossetti... li ritengo tra i rossetti migliori in circolazione insieme a quelli di MAC. Allora, lui è un mini mini mini... potevano fare anche un po' più grande. Blush. Parliamo del blush più famoso di Nars. Ed è Orgasm. Ed è questo color rosa con delle pagliuzze dorate. Leggermente corallo, ecco. Però dà un effetto molto luminoso al viso. Ed è davvero bello. Io ne ho avuti diversi formati. Ho avuto il formato duo e il formato classico. Ed è uno dei blush più belli che io abbia provato. e dura anche molto a lungo durante la giornata. Si fissa molto bene, quindi non va via dopo una soffiata di vento. Merita. Dieci. La casella dieci è molto grande. Che bella! Qui abbiamo una candela. Molto bella. Cade? Sì? Ah, ok. Penso sia fatto proprio... No, non credo. Comunque. Molto bella. Oddio. One beautiful fragrance can create many beautiful memories. bella. Molto apprezzata. La profumazione è buonissima. Sa di... Sa di rose. Non lo so, ma è... È molto buona. Ah, tra l'altro è di Rituals. Non vi ho detto neanche il brand. Non mi ricordavo... Non pensavo che Rituals facesse anche le candele. Stra apprezzata. Poi nella casella numero 11 troviamo un prodotto di Shiseido. Ed è... Questo penso di averlo già provato ed averlo trovato l'anno scorso in un altro calendario. Che credo però fosse quello di Asos, credo. Ed è un siero altamente concentrato ed è energizzante. È piccolino anche il formato. Anche qui da 10 ml. Però ricordo di averlo provato e che mi è piaciuto molto. È molto rimpolpante. È molto buono. Poi... Che bello. Sono contenta. Mi sto rifacendo un po' di prodotti skin care. Ora... Non so se mi seguite su Instagram, ma negli ultimi mesi ho deciso volutamente di non fare nessun tipo di acquisto né make-up né skin care. Perché ero davvero piena di prodotti. Soprattutto di skin care. Pienissima. Quindi ho deciso di fermarmi un attimo con gli acquisti. E di smaltire tutto quello che avevo. E devo dire che sono stata molto brava. Con i calendari però generalmente io mi rifornisco e molti prodotti io li utilizzo davvero tutto l'anno. Io ho tuttora prodotti dei calendari dell'anno scorso. Quindi... 12. Vediamo. Anche qui vediamo un tubetto. Avant? No. Allora... Wonder Balm Air Primer. Quindi questo qui è un primer per capelli. E per primer che cosa significa? Ah ecco... Prima dello styling. Prima dello styling e anche dopo averli asciuti. Quindi sono tutti prodotti leave-in. Quindi sia da applicare a capelli bagnati... Non so quale sia la funzione di questo prodotto. Dovrebbe andare a ripararli anche suppongo. Penso di sì. 13. Qui abbiamo una cosa molto piccola. Vediamo che sembra un po' una caramella. Iconic. Ecco Iconic era uno di quei brand che voglio provare. Penso sia l'illuminante. Suppongo. Perché è uno dei prodotti iconici appunto del brand. Il formato è piccolissimo. 2,8 ml. E penso sia la colorazione più famosa. Il dorato. Ah sono contenta perché volevo provarlo. Il formato è davvero piccolissimo. Però insomma va bene. Almeno lo testiamo. Lo proviamo. Per un paio di uscite ci può bastare. La 14. Questo è un brand che non conosco. AHC. E sarebbe una crema per occhi. Real Eye Cream for Face. È una crema però per il contorno occhi concentrata. Bene. Anche i prodotti per contorno occhi io li apprezzo un sacco. Ed il prodotto è questo. Il formato è da 10 ml. Però per essere un prodotto per contorno occhi mi va bene. Quindi non lo disprezzo. Anche il brand non conoscendolo mi fa piacere anche provare e scoprire brand nuovi. 15. Cos'è la 15? REN. Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Allora questa è una crema di REN. Io di REN ho provato un sacco di prodotti. Io tempo fa ho anche acquistato un calendario di REN. È un brand che apprezzo. Alcuni prodotti non mi sono piaciuti per la mia tipologia di pelle. Questa qui è una crema notte. Quindi ha la consistenza anche un po' più importante e più corposa. Dovrebbe essere anche una... Dovrebbe donare un effetto illuminante. 15, 16 invece. Cosa abbiamo? Ah, Bubble. È una bomba da bagno. Una bomba da bagno. Non so che forma abbia della Bubble. Bella, apprezzata perché insomma mi piacciono. Io in realtà faccio solo docce. Quindi faccio raramente... Mi lavoro raramente nella vasca da bagno. Però con questa scusa potrei approfittare e provare la bomba. 17. Ah, This Works. This Works è un brand abbastanza famoso. O meglio, io fino ad ora, in altri calendari che ho preso, ho trovato dei prodotti che sono tipo degli spray rilassanti. Tipo l'anno scorso ho trovato uno spray che io erogavo sul cuscino e mi dava questa sensazione di rilassatezza perché aveva una frananza tipo alla lavanda. Insomma, dovrebbe anche donare questa sorta... avere questo effetto di relax, di assopimento. Insomma, dovrebbe anche aiutare con il sonno. Questo prodotto però penso sia da erogare anche nell'ambiente, credo. Non ho ben capito. Stress Check Mood Manager. Non ho capito. Cioè, non... Non lo so, penso sia così, credo. 18 invece. Casella 18. Proviamo un tubettino interessante. Allora, Christophe Robin. Christophe Robin è un brand che io apprezzo tanto, parecchio, devo dire. Allora, Christophe Robin è un brand per capelli, anche qui. Ma qui, invece, parliamo di uno scrub. E devo dire che avevo proprio bisogno di uno scrub per capelli perché ogni tanto va fatto, ogni tot mese, insomma, settimane, uno scrub purificante al capello perché aiuta anche poi con la crescita del capello, a liberare magari i pori e quindi permette anche al capello di essere un po' più sano, più idratato, di crescere in maniera sana. E questo sono contenta, pur essendo un prodotto per capelli, ma si differenzia dagli altri, quindi sono molto contenta. da 40 ml, quindi qualche seduta la possiamo fare. 19, invece. Ma mi sembra di averlo già trovato, sto prodotto. Oddio. Qui ci sarà stato un errore perché ho trovato lo stesso prodotto che ho trovato nella casella 4. Male. Questa cosa non va bene. Va bene, qui sono due prodotti come se avessi un unico prodotto da 30 ml, però insomma, ecco, sicuramente è stata una svista, ecco. Non mi fa proprio piacere di aver trovato un doppione. Però, vabbè. Venti, è piccolissimo ed è un... una boccettina davvero piccolissima. BioEffect EGF Serum. È un siero. È un siero, davvero piccolissimo. non so a che cosa, però è un siero. 21, 21. 21 mi sembra una matita. È una matita di Diego dalla Palma, quindi una matita nera, quindi anche di quelle automatiche che a me piacciono. La matita nera è sempre una buona idea, quindi va benissimo. siamo quasi agli sgoccioli. 22 Balance Me Beauty Sleep Yaluronic Mist. Quindi questa è una mist con il 99% di ingredienti naturali. Ecco, le mist non le utilizzo molto, però, insomma, se le ho le utilizzo. Infatti l'anno scorso ho trovato anche altre mist anche di Balance Me, quindi sono contenta. Questa qui, tra l'altro, è per la notte all'acido ialuronico. Di questo sono anche molto contenta. 23 invece. Avant. Avant Glicolic Capric Caprilic Hand Balm. Quindi una crema mani. Avant è un brand che io apprezzo tantissimo. Avrei voluto trovare una crema viso, una maschera, però va bene anche la crema mani. Vediamo se non è sigillato. No, è sigillato, però per il momento ne ho altre da terminare da 50 ml. Bene. E ha anche il burro di karité. È anche abbastanza idratante, soprattutto per l'inverno dovrebbe essere un po' casana. 24. Elemis. Allora, per chi non lo sapesse, io amo Elemis. È uno dei miei brand preferiti. Ho provato un sacco di prodotti e lo apprezzo davvero tanto. Questo qui è un ski smoothing cleanser, quindi un detergente, un gel detergente da 30 ml. Sono contentissima. Siamo alla fine comunque. 25. 25. Pesantina, suppongo, Espa. Espa è un altro brand high cost presente sul sito di Look Fantastic. bel formato full da 55 ml. Questa qui è una Clean and Green Detox Mask. Quindi, è una maschera viso. Io amo le maschere viso. Ah, che buona. È anche Espa è un brand che apprezzo tanto. Vi devo dire la verità, l'anno scorso ho trovato all'interno di un calendario una crema viso mattificante. In realtà, non l'ho ancora aperta perché avevo tante altre cose da finire. Volevo provare prima i formati un po' più piccolini e a breve dovrei aprire anche quella crema lì e sono molto curiosa di provarla anche perché in questo periodo la pelle è un po' che sta facendo i capricci perché tende a lucidarsi particolarmente quindi devo mantenere un po' il sebo fermo e buono. Quindi sono molto curiosa. Questa qui invece è una maschera Detox e quindi sono contentissima anche di questo prodotto. Io penso di aver aperto tutto. Che dirvi? Io sono abbastanza soddisfatta. Se posso dire la mia su alcuni punti avrei da ridire soprattutto sui formati. I formati li trovo davvero un po' troppo mini size. Cioè il prodotto di Iconic o quel sieretto da 2 ml li trovo davvero piccoli è un po' ridicoli. Per il resto a parte quei 3 prodotti per capelli avrei forse tolto un prodotto per lo styling però per il resto sono abbastanza soddisfatta. Io poi sono un'amante della skin care quindi ci sono sicuramente più prodotti skin care che di make up. Per me va benissimo quindi non non sono di quelle che spera di trovare più prodotti make up anzi forse preferisco anche più prodotti di skin care quindi sono molto molto contenta. Io spero di avervi tenuto compagnia però comunque è un po' ridicolo .